Oggi chitare Siamo le sette del mattino e sto facendo colazione con la brioche e il caffè latte Siamo le sette del mattino e sto facendo colazione con la brioche e la brioche Sì, oggi c'è da sbrigarsi perché c'è l'aperitivo e tireremo via la canzone Destinalis, qual è il vostro sponsor principale? Lager Beer Anche io ascolto i Dustin Eyes Anche io ascolto la brioche